Siamo qui con Ernesto Assante, siamo a questa conferenza per parlare del ritorno del vinile nell'era di Spotify. Come mai secondo lei ci si interroga sul fatto del ritorno del vinile e non del declino del CD? Credo che il declino del CD sia dato quasi per assodato, talmente da tanto tempo che in declino, anche se è tutt'altro che scomparso, che la gente se ne interessi abbastanza poco, è diventato un supporto secondario, non primario, ha perso centralità e importanza dando sfortunatamente un forte contributo a far perdere centralità e importanza alla musica. Il recupero del vinile, al contrario, per quanto molto limitato, segna un interesse verso la conservazione della musica, nel possesso della musica, che sembrava obiettivamente svanito, proprio con l'avvento del CD, che era diventato un prodotto usa e getta, sostituito poi dal prodotto usa e basta, che è quello di Spotify. Lei ha dichiarato in un articolo che il vinile è l'opera, come mai questa dichiarazione? Perché attorno al 1965, per una intera generazione di artisti che poi hanno contribuito a fare la storia del rock e del pop moderno, lo strumento di pensiero della musica era il disco in vinile, era il 33 giri, quindi non più la singola canzone, ma opera completa che potesse fotografare il momento dell'artista, il pensiero dell'artista, l'opera dell'artista nella maniera più completa. Questo è andato avanti sicuramente fino a buona parte degli anni 90, diciamo che dagli anni 2000 in poi la centralità dell'album è svanita con l'avvento di internet e quindi con il ritorno al consumo per singoli brani che tuttora, diciamo, è dominante nel mercato. E secondo lei, da studioso di musica e osservatore attento, come si posizionano i giovani in questo nuovo periodo della musica? Non si posizionano, nel senso che siamo in pieno medioevo, stiamo attraversando il passaggio da una fase che era quella analogica a quella nuova che è digitale, che non è ancora arrivata completamente. I giovani sono fluidi, cambiano abbastanza rapidamente, se pensa al successo del download fino a pochi anni fa e al fatto che oggi non conti veramente più nulla, cambiano a seconda degli strumenti che gli vengono offerti e delle possibilità che gli vengono offerte. È ovvio che siamo abituati ad essere costantemente connessi e ad avere a disposizione tutto, in qualsiasi momento, ovunque. Questo ha cambiato la fruizione della musica in maniera fondamentale e credo che cambierà ancora. Qual è, secondo lei, la posizione di Spotify rispetto al ritorno del vinile, rispetto a questo periodo in cui comunque sta tornando una moda di un oggetto fisico che ci porta alla musica? Credo che a dover essere preoccupato non è tanto il mondo della discografia o dei dischi, ma quello della radio, cioè il vero concorrente di Spotify e la radio, non sono i dischi in vinile. Il vinile o anche i cd o le cassette si comprano per conservare qualcosa, dentro casa, mentre Spotify sostituisce l'ascolto casuale della radio, appunto, in mobilità o quando si è a mezz'ora libera, insomma, quando non si ha il tempo di sedersi ad ascoltare un'opera, come a leggere un libro, come a vedere un film. Perfetto, noi la ringraziamo e un saluto agli amici, agli ascoltatori di Roma 3 Radio. Grazie mille e saluto giustamente tutti gli ascoltatori di Roma 3 Radio. Grazie mille e saluto.